Marinai del web, benvenuti o bentornati su Radio di Bordo, oggi parliamo dell'incredibile ritrovamento della barca Endurance. Benvenuti in questo nuovo video, io sono Matteo, come avrete notato il video non esce di venerdì ma esce oggi, mercoledì 9 marzo, perché proprio oggi è stato annunciato il ritrovamento del relitto della nave Endurance a 3.000 e 8 metri di profondità nel mare di Weddell. L'Endurance è stata la nave con cui l'esploratore antartico-brittannico Ernest Shackleton ha utilizzato per la spedizione Endurance, conosciuta anche come Spedizione Imperiale Transantartica, una missione che aveva come obiettivo quello di attraversare l'Antartide via terra a piedi con slitte trainate da cani per circa 2.900 chilometri, impiegando circa 4-5 mesi di viaggio. Per poter raggiungere l'Antartide Shackleton scelsa appunto la nave Endurance. Si trattava di un veliero a tre alberi dotato di un motore a singola elica che sviluppava circa una potenza di 350 cavalli. Questo gli consentiva una velocità di 10 nodi. Era una nave progettata espressamente per le esplorazioni artiche, che era riuscito a comprare sotto costo due anni dopo il Varo. La nave misurava circa 44 metri, era larga circa 8 metri, aveva una stazza di 320 tonnellate. Il 1 agosto 1914 Shackleton e il suo equipaggio, che era composto da 28 uomini, partono verso l'Antartide. La raggiungono in circa 5 mesi, ma purtroppo la vita tra i ghiacci di questa nave dura davvero poco. E la missione Endurance purtroppo termina ancora prima di iniziare. Il 19 agosto 1915, a solo 80 miglia dal continente antartico, l'Endurance purtroppo viene sorpresa dal ghiaccio. Rimane intrappolata tra i ghiacci del mare di Weddell e per 10 mesi viene trascinata verso nord-ovest e rimane appunto alla deriva nel pack. Questo fino al 21 novembre del 1915, giorno in cui la nave non resiste più alla pressione della banchisa e, dopo 281 giorni dall'incagliamento, sprofondò nel ghiaccio. Shackleton e i suoi 28 uomini di equipaggio furono costretti ad una vera lotta per la sopravvivenza, in uno dei luoghi più inospitali della Terra, a migliaia di chilometri dalla Terra più vicino, e da chi in qualche modo avrebbe potuto aiutarli. Vissero mesi accampati sul pack, costruirono dei piccoli accampamenti, riuscirono a spostarsi anche un po', ma nessuno riuscì in quei mesi a vederli e a soccorrerli. Dal naufragio però riescono a portare in salvo tre sceluppe di salvataggio. E con queste tutti gli uomini dell'equipaggio insieme a Shackleton riuscirono a raggiungere l'isola Elefante nelle Shetland Meridionali. Oh, finalmente tutto l'equipaggio era in salvo, però purtroppo sull'isola Elefante nessuno li poteva aiutare. A questo punto Shackleton decise, insieme ad altri cinque uomini di equipaggio e ad una piccola baleniera, che era una delle tre sceluppe che erano riuscite a portare in salvo, decide di partire, nel temerario tentativo di raggiungere la Georgia del Sud. A bordo aveva solo un sestante e un piccolo cronometro. Attraversò uno dei mari più pericolosi e inospitali al mondo, ma incredibilmente riuscirono a percorrere 1600 chilometri, fino a raggiungere finalmente Gritviken. All'arrivo Shackleton organizzò subito una missione di soccorso per andare a riprendere l'equipaggio che aveva lasciato sull'isola Elefante. Purtroppo il soccorso durò molti molti mesi a causa del mare ghiacciato, ma finalmente riuscì a recuperare tutto il suo equipaggio. Con grande orgoglio di Shackleton, nessuno dei suoi uomini morì in Antartide. Questa è la storia della missione Endurance, ma per 107 anni di questa barca non si è più saputo nulla. Fino ad oggi, quando appunto è stata ritrovata delle immagini incredibili, stato di conservazione magnifico, perché come spiegavano a quelle profondità non esistono organismi in grado di attaccare i materiali, e la barca l'hanno trovata praticamente intatta, ancora con le vele avvolte intorno all'albero, agli alberi, alcuni capi di vestiario dell'equipaggio e tanto altro. Chiaramente non hanno potuto toccare nulla perché il relitto è protetto in quanto sito storico e monumento del Trattato Atlantico. Quindi al momento ci dobbiamo accontentare di questa meravigliosa scritta dorata che si vede a poppa della nave, Endurance è rimasta intatta dopo 107 anni. Spero che questa storia vi sia piaciuta, se vi è piaciuta lasciate mi raccomando un like a questo video, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati e noi torniamo la prossima settimana. Ciao!